Noi abbiamo in questa nuova edizione, che è la più ampia e la più ambiziosa, 11 comuni, diverse istituzioni pubbliche e private, la partecipazione con riconferme e novità dei più grandi artisti a livello nazionale e internazionale che abbiamo qua in Sardegna, quindi Gio Perrino, Itta Zenda, Iberta, Smergio Vanna Cherchi, Beppe Dettori, il Coriofonia di Gavoi, e poi soprattutto l'ambizione, quella che abbiamo, è di trasformarci nella colonna sonora dei luoghi per renderli veramente protagonisti e non semplicemente come un atteggiamento da cartolina, da turismo. No, vogliamo veramente che il luogo viva e che possa respirare a beneficio di tutti coloro che verranno, sardi, italiani e stranieri. Il Festival delle Bellezze si inserisce nel contesto più generale del contenitore Salute e Trigu, un contenitore, tra virgolette, voluto e creato dalla Camera, da questa giunta, spinto ulteriormente e finanziato proprio per far sì che il territorio possa sviluppare, oltre alla promozione, anche delle economie riferite proprio agli eventi che comunque creano della circolarità e dell'indotto per le economie locali.